Hai cantato al baile? Ma certo, avevo 17 anni, non so, tante. Già cantato? Eh sì, già. Nel senso che hai cantato proprio qui. Siamo molto prima. Ti baciamo ovviamente il programma per tutto quello del tuo staglio, grazie per aver guardato il baile. E poi tale che era una forza fortuna, io ho iniziato qui e domicili dopo aver avuto anche un grande successo e sempre mi piaceremo ritrovare qualcosa che aveva avuto un minuto, un posto, un po' di storia, un po' di storia. Grazie a tutti. Grazie a tutti.